ingresso di lì burpetta stretta burpetta larga rotto il punto più difficile è questo quella curva qua ingresso no no è giusta è giusta è giusta è giusta qua sembra facile sta curva sì al limite fanno quella variante qui anziché chiuderla giù qua vanno giù girano la e vengono usciuti qua vediamo Michele vai Michele ingresso piano un po' troppo un po' troppo no aspetta ma la voglio riprovare Michele non molla sei arrivato secondo me è un po' forte vieni piano e allargati magari un po' di più un po' di scendere qui un po' di scendere qui perfetta un po' di scendere un po' di scendere qui vai che ce l'hai fuori il culo di qua piano 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 respira respira e provo riportate riportate vai 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 tranquillo le faccio io due risate sembra fai non c'è verso è troppo troppo al limite di là si fatela pure di qui vai giù vai giù di lì vai giù vai giù Sì ecco la furba lì è vendicativa poi ho la frenata un po ma 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 è ma 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 se Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti.